Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video speciale vlog delle ore 18 Sono le 6 e mezza Vabbè speciale vlog dell'ore 20, 21 che cazzo ne so Allora per dirvi una cosa molto importante anche un po' triste da forever alone Allora ragazzi purtroppo la serie su minecraft non potrà andare avanti Perché questo stupido di minecraft che vedete che c'è dietro di me Adesso ve lo metto a fuoco a rischio di non vedermi io Vedete questo stupido che vedete qua dietro Purtroppo io sono entrato in minecraft E quando sono entrato in minecraft non ho trovato nessuno al craft e ne shard of the void Shard of the void sarebbe una mappa che praticamente gioco io in privato E praticamente non ho trovato nemmeno quella E non so la causa di questo Non so il perché di questa cosa perché mi ha cancellato tutto Ma purtroppo abbiamo perso tutto Abbiamo perso i diamanti Abbiamo perso il netra Abbiamo perso proprio il bioma E quindi ragazzi mi dispiace ma purtroppo la serie non potrà andare avanti Ma io mi sono subito impegnato Ho cercato su internet ma purtroppo non c'è stato niente da fare Su come potevo recuperare il mondo Ho anche fatto l'accesso all'appdata Alla cartella roaming Su start faccio percentuale appdata percentuale E ho fatto l'accesso Sono andato sui salvataggi e praticamente non c'era proprio più la cartella Quindi è crashato praticamente tutto E mi dispiace questo perché c'è eravamo a buon punto con questa serie E c'è stavamo andando molto bene Però ragazzi Io non lo so perché praticamente faccio le serie su Minecraft Non riesco mai a superare l'episodio 10 Sarà un caso? Io non credo Allora praticamente Qui non riesco mai a superare l'episodio 10 Ma speriamo che questa prossima serie Che tra qualche giorno sarà online Ma questa serie sarà qualcosa di particolare Nel mio senso Sempre è particolare Allora Innanzitutto non troverete più un episodio a settimane Come facevo prima Giusto per registrarlo Un episodio a due settimane Troverete Un episodio Un giorno sì E un giorno no Quindi che cosa vuol dire? Che invece di trovare un video Un giorno sì o un giorno no Troverete due video Un giorno sì o un giorno no Quindi vuol dire Che oggi Sono usciti due video Oggi è uscito lo speciale Ed è uscito questo vlog Dopodomani dovrebbe uscire Un video epico E il primo episodio Dalla serie su Macro Quindi questo vuol dire Che da oggi Ci saranno due video al giorno Sì perché mi sono liberato Un po' di più Un po' via dell'estate E io voglio Non mi mettermi solo A registrare E quindi ragazzi Mi dispiace Ho già fatto le miniature Per la prossima serie Che sarà Non quotidiana Perché comunque Io i video li faccio Un giorno Già l'ho detto Insomma Il mio ritmo lo sapete E quindi che dirvi Mi dispiace ancora Per questa serie Ma purtroppo Non potete fare niente Anzi adesso Mi metto a vedere Magari se qualcosa Vi aggiorno sulla pagina di Facebook Siamo riusciti A recuperare Quella cartella Nessuna craft Ma purtroppo Per adesso Io dico Questo coglione Di Minecraft Mi ha resettato tutto E quindi ragazzi Che voglio dire Seguitevi sulla pagina di Facebook In descrizione Instagram Surrealgaming01 Istatgaming Giochi al 70% E quindi che dirvi Io ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Bella ragazza Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.